salve a tutti entro in un video in questo video vi porto fortuna e trovate a cominciare il video vi dico di iscritto al canale lasciate un like adesso ragazzi oggi a portarsi anche oggi ho portato pietro poi ragazzi qui questa volta penso spero che pietro mi aiuti questa volta spero pietro adesso guarda cosa facciamo andiamo qui perché qui pietro troviamo tante cose utile ok scendi ragazzi quelle che vi ho detto nel scorso video del pietro non può parlare su fortuna sì scendiamo qui pietra su questa ruota non perché a me non interessa perché sono avvenuti di nuovo perché perché io cedo questi qua non mi lasciano vivere la pietra morirà sicuramente pietra per colpa della mia mamma pietra ma a me non no è tutto colpa è tutto colpa della mia mamma cosa fa ma le cose interessa cioè cosa fa io quando registro la mia mamma deve entrare la mia mamma o la mia sorella o la mia o la mia cosa come si dice la è o il mio padre deve sempre entrare ma di pensione ma io sto lavorando lo dico sempre allora quando registro video lo dico sempre io sto tanto allora non importa la loro missione è interrompere la mia registrazione anche ragazzi vi presenti quando avevo fatto il secondo episodio dove avevo come si dice scusate ragazzi non mi viene in mente ecco dove avevo fatto il secondo episodio delle animazioni che ti fa riflettere e lì che è successo uno mi chiamava ma c'è ragazzi vi pietra scendi c'è che succede io quando registro a loro vengono in mente a io devo chiamare ma devo fare questa cosa devo io devo mandare un email e devo mandare un email a quella persona maledizione allora vengono in mente quando no faccio così vado giù e mi fa salire bene c'è quando io devo allora vengono in mente che allora c'è loro devono mandarmi un email un email un questo un quello qua c'è tutte queste ragazze quando io devo registrare quando io non devo registrare o non non registro che succede loro non mi chiamano i miei genitori che non mi disturbano se tanto ragazzea io dico ai miei genitori che io sto registrando a loro tanto mi disturbo verranno così io non li dico dico alla mia sorella che sembra anche un po' in talice dico alla mia sorella quando io devo registrare quando io devo registrare dico che io sto registrando non mi disturbo io dico alla mia sorella perché sembra un po' intelligente su queste cose su youtube sembra intelligente pietro vieni questa volta vieni pietro vieni vieni su questo verde entra pietro entra su questo verde pietro dove sei entra pietro mi prenderà qualsiasi per tanto è finita dove è andata pietro dove è andata pietro forse si è andata a fare un viaggio io per la mia sfortuna sì ecco pietro è andata a fare il suo viaggio perché devo voglio andare anch'io a fare il viaggio maledizione ma io non li so io non so porta fortuna ecco prima di tutto hanno bagato il microfono di pietro poi cosa hanno fatto non non mi hanno nemmeno fatta entrare chi piro di coro cos'è quello non è l'arma che io volevo sì e quell'arma che io volevo prendere nelle scorse video ma adesso lo sto prendendo io prendo questa arma per sparare agli altri pietro quando hai finito di viaggiare vieni da me in realtà ragazzi non è che io sono arrabbiato con pietro ecco perché lo ragazzi non è che io sono arrabbiato con pietro ecco perché lo sto dicendo quando hai finito di viaggiare vieni è solo che ragazzi quella cosa verde che forse sono andato in un altro video lì che è successo mi hanno fatto mi hanno non so quando sono entrato sembra che io sto viaggiando nel tempo ecco perché lo sto e se ecco perché sto dicendo a pietro che quando hai finito di viaggiare nel tempo mail vieni da me uno che spara da qui muore sì ci chi 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 ah pietro ha finito di viaggiare dove sei? no io guardo la mappa ecco 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 come è andata lì come è andata lì adesso vado anch'io vado ecco è lì sopra vediamo se la posso beccare no un scherzo ragazzi termina qui pietra sta attento comunque pietra sono io con quel laser sono io non ti preoccupare andiamocene via da qui pietra andiamo al posto di stare qui andiamo 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 fai così non girati girati da quella parte c'è una problemina ok ok pietra sono già scena pietra è sceso prima di me pietra sai che ho trovato un'arma che che io con quell'arma io ti posso salvare in qualsiasi momento prende il medikit pietra io ce l'ho vabbè prendo io e dove pietra lo uccidiamo io non posso fare io sto almeno pietra sta bene sì penso spero che sta bene se la faranno i nostri eroi pietra è su e su vieni vieni io adesso lo lasero comunque pietra sta attento bravo pietra prendi te guarda guarda io ti do questo prendila prendila prende anche il cos'è il medikit tanto serve a te più che me usalo e usa questo medikit per fortuna siamo dentro il safe guarda arrangio io tu guarda è lì guarda tu puoi saltare anche come un coniglio ma non disturbare ma che c'è pietra viene a noi maledizione mi scappiamo pietra pietra maledizione no non posso lasciare pietra scusa guarda te io devo curarmi noi stai dai pietra per morda il dio non perdere non perdere nessuno ok vieni comunque per adesso prendo una pietra vieni vieni che andiamo pietra vieni vieni che andiamo nella safe a che successo cose spari pietra vieni 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 automatico così non devo premere nulla corre lui odio questa cosa pietra se trovi qualche barca o altro ragazze quello che ho visto sentite qualche rumore strano è vento il mio padre quello che vi avevo detto prima che quando io registro loro devono rompere a me quindi vai cosa sta meglio la space space morta pietro a terra quindi non ci prezzi cosa finiamola qui noi non ci no pietra ah no ok anche questa la prendi te lo scudo cosa mi ha preso o te melo dai adesso me se adesso tanto io non ho tempo me lo dai ok me lo dai cosa mi hai preso me lo dai quello che mi hai preso e stanche moreno va bene io l'ho trovato in in fatica un'idea usiamo queste robe c'è musse ecco bene bene se è morta è morta per colpa mali di ma io pietra pietra e scusa scusa vieni 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 bene morto male quello no comunque ragazzi se ragazzi comunque era il il primo era venuto il mio padre c'è lui loro i miei genitori o la mia sorella devono rompere a me quando io devo registrare quindi comunque io devo dire che con grazie ho messo muto pietra non mi sentirà comunque adesso si perchè sta guardando il video comunque avete capito avete capito oh pietra cosa fai eh cosa fai sicuramente lui sta divertendo dai ragazzi festa sei quasi festa volevo sparare un colpo bene scendi se si è scesa per fortuna perché tefano comunque io so che ragazzi succede a tutti questa cosa quando dovete registrare o altro i vostri genitori o fratelli o sorelle e vi rompono se si via vi capisco se si ragazzi non c'è da niente a preoccupare quasi su questo dove è andata pietra no 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 dove è andata pietra come aspetta aspetta ma dove cosa stai su quella cosa su quella cosa no maledizione io no io non mi scappo o io non sono venuta io non sono venuta ecco queste cose ecco pietra pietra cosa stai guardando no eh viene a prendere la mia scheda grazie grazie pietra cosa fa lì cosa pietra viene a prendere lì sì tanto è giù non può eh su su devi prendere cosa sta succedendo dove dove ti ha portato eh che spettatore no dove and ma siamo seri di nuovo che no a pietra no a pietra no io pensavo se ti lasciasse a camminare maledizione dai vediamo cosa fa tanto io sto già morendo l'avevo d'avevo detto a pietra di stare vicino a me ma no non è più deve sempre scappare dai sono già morto che è successo ora tutto giù è la Ok Quante cose sta prendendo Ma io posso Vedere Io non posso controllare La posso vedere Se cosa sta facendo O dove Ah quindi io sono Io e lui siamo diventati unico Cioè ragazzi Vedete qui sulla mappa Vedete che c'è un po' blu Un po' E' bianco Quindi sono attaccati E cose E' diventata volante Adesso pietra è volante Che noia Quante non si gioca Bene Sta per finire anche la benzina E' diventata volante E' diventata volante E' diventata volante Quando sta annoiando Forte mi stava pensato di Morire Di far morire Pietro Bene Adesso si rilassa Adesso si rilassa No Ok Adesso Posso dire Oh scusate Posso dire Perché ragazzi Prima avevo registrato Episodio 28 Questo è 29 Cioè qualche minuto prima Avevo registrato Episodio 28 8 Di forti Dopo aver registrato 28 Sto registrando 29 Cosa fa? No dammi un po' 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 Che te Non me l'ha dato Quello Pazzo Se andiamo sempre qui Io scendo Scendi 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 Via 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 E' mia quella cosa Io voglio veni Maledizione Maledizione Tirami su Sei bravo Ah ragazzi Io non so che è successo Pietro ha abbandonato Stato Ho stano giocando ancora L'ho abbandonato Ragazzi Quindi E' stiamo qui Noi Non lo so forse si Forse si stava annoiando Comunque Maledizione Le mosche Ok Ok Cos'è questa? Questa è? Prendimi Prendi Prendimi Maledizione Prendimi 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 Mi se mi ha preso Dopo tanto tempo Non Ok Non c'è da vicino Non Non c'è vista No Che è la voce farata la mia no ciao che ciao come che ragazzi io dico di concludere il video perché io non lo so io ci vi concludo qua il video se vi lasciate un iscritto al canale quindi vi saluto